vabbè ma tacchietti pure per partire si si esatto fai bene fai bene cazzo che cazzo vai? in portogallo ma vivere proprio? si si ma va bene vai già a casa tutto? all'incirca un po' più indietro del maestro ma sto nei tempi la mia domanda era ti trasferisci lì a fine mese no vai a vedere per maggio dobbiamo stare là maggio è buono ma prima o dopo il compleanno tu immagino prima del tuo prima 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 ci sarà comunque roba strana perché dove dovrei streamare è comunque una roba strana ma connessione così come fate? connessione esatto in portogallo c'è la connessione ma sai che tipo quando prendi la casa poi devi aspettare vabbè no tacchietti che almeno che quando entri c'è tutto disponibile al massimo paghi un mese in più d'affitto senza la fine vale la pena sì sì è esatto Grazie.